Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video oggi per portarvi un contenuto più rilassante dato che è domenica non ce l'ha da fa niente e quindi ci rilassiamo davanti alla scatola dei ricordi perché porto questo tema, diciamo così, perché un iscritto un po' di tempo fa mi aveva fatto notare che non parlo mai praticamente sul canale della mia vita privata quindi ho deciso insomma di portare un po' di quello che è stata la mia vita ho cose di vent'anni fa e ho cose dell'altro anno quindi dentro questa scatola, che voi non vedete ma ne vedrete il contenuto presto c'è un po', se vogliamo, la mia storia ovviamente mancano tantissime cose però questi sono gli oggetti che ho deciso di tenere con me perché mi ricordano delle cose felici e belle talmente belle che partiamo con un quadernino con su scritto è questo quello che penso str... eh? iniziamo proprio benissimo e all'interno ci sono delle pagine che non posso assolutamente leggervi perché c'è una tale rabbia nei confronti della vita che è meglio che lo mettiamo da una parte e non ce ne interessiamo perché ci sono scritte veramente cose allucinanti spero che nessuno psichiatra le leggerà mai questa è una corda che non dovrebbe stare nella scatola dei ricordi perché che mi ricorda la corda? Niente c'è un'altra corda che, come quella di prima, non ricorda assolutamente nulla proseguiamo con degli oggetti che sono a me molto cari che sono questi guantini che sono praticamente distrutti lacerati qua sono rotti, inutilizzabili, tutti macchiati allora che cosa sono questi guantini? sono i primi che io ho indossato nella palestra dove attualmente vado, continuo ad andare e questi guantini hanno vent'anni precisi perché io ho iniziato a nove anni adesso ce ne sono a ventinove se la matematica non è un'opinione hanno vent'anni sono degli oggetti che mi piacciono che mi inteneriscono uguale, la stessa identica cosa accade per questi altri oggetti sono tutti uguali ma io vi prendo quelli più eccoli qua queste sono le mie scarpette questo è un 38 è un 38 che non mi sarebbe neanche neanche per la sua mano mi c'entra che servono per non rovinare il pavimento della palestra e giustamente che ne conservavo uno no conserviamoci tutte le scarpe di tutti gli anni un ricordo recente è questa borsa qui all'interno della quale ci sono dei cd eccoli qua perché c'è stato un periodo felicissimo della mia vita in cui facevo il dj cioè il dj andavo a suonare alle feste dei diciottenni avevo creato una specie di spotify tangibile dove prendevo il disco a 12 avevo tutte le canzoni e suonavo assieme al mio amico Mattia all'inizio le prime pagine sono quelle canzoni quelle preserata quelle ma chi è quella tizia laggiù ma guarda quello quanto è brutto poi ci sono tutte le canzoni di metà album che sono le canzoni che caricavano un po' di più fino a poi le canzoni più ballate del momento questo quaderno pseudolibro quaderno pseudolibro in realtà è la prima stesura di Medward il mio primo romanzo che in realtà all'inizio si doveva intitolare I can fly io posso volare eh sì era un titolo veramente brutto e alla fine mi sono salvato in carcio d'angolo con Medward che è sicuramente più bello poi ecco qui ci sono tutte le correzioni le modifiche questo è un po' la miccia che ha acceso poi il grande incendio dei romanzi e giustamente c'è anche il secondo queste sono praticamente le prime stesure dei miei primi romanzi io sto mettendo tutto da una parte ma qui ancora di roba ce n'è io non so dove la metterò questo è come beh vedete un flauto perché l'ho ottenuto perché io non sono mai stato capace a suonare il flauto mai ma neanche alle elementari quando ci si mettevamo 13 ore al giorno eppure è un oggetto che mi fa sorridere perché mi ricordo di me piccolino che suonavo sta cosa poi c'è una pistola giustamente chi è che non ha una pistola in casa io l'ho ottenuta questa perché la prima volta che mio padre me la fece vedere me la puntò in fronte cioè mio padre è entrato in casa per farmi vedere me la puntata così e io sono rimasto talmente tanto sbalordito impaurito che l'ho ottenuta giustamente ogni trauma ha bisogno del suo ricordo e ci sono due quelle che sembrano essere cartucce ma sono tutte boh tutte tappate c'è una specie di pasta indurita non lo so comunque ovviamente per le autorità è chiusa ecco c'è tipo cemento non posso uccidere nessuno con questa però ecco l'ho ottenuta giustamente per ricordare quel giorno traumatico ci sono delle fotografie vabbè ora non so se ve le scannerizzerò questa è una fotografia in cui stavamo facendo una recita penso non si sa che è un ammasso da ragazzini così buttati lì e questo sono io ma questa non ve la faccio vedere perché è veramente imbarazzante poi se raggiungiamo i 780 miliardi di like vi farò vedere quella foto ora ho ottenuto anche questo con C18 il personaggio di Dragon Ball perché da bambino io ero innamorato di questo personaggio era un cyborg quindi già avevo i problemi da ragazzino questo invece è Bruce Lee oh dove vai Bruce vieni qua questo è Bruce Lee perché sta qua perché io sono un grande fautore sono stato sono e sarò sempre un grande fautore per me Bruce Lee è il primo idolo della vita e ho scritto oh ecco l'ho strappato cioè a 120 anni sta foto l'ho strappata adesso e ci sono varie frasi e questa è una specie di foto barra mausoleo non so come potrebbe essere definita che io l'ho sempre tenuta appesa al muro vedendo questa foto io ricevo la sua forza e ricevevo quello che pensavo volesse darmi e cioè tanta autostima tanta tenacia e tante foto per terra allora qui ci sono altre foto vabbè in caso ve le scannerizzo qua ci sono io che non so mi sto strappando i vestiti di dosso poi ci sono sono io con una espressione abbastanza ambigua non so se stavo piangendo o mi stavo cagando addosso questa è una recita questa è stata la recita più imbarazzante della mia vita perché dovevo fare lo spazzacamino ma la mia espressione descrive lo stato d'animo felice ed entusiasta che stavo provando durante l'area io mi sarei voluto uccidere quel bastone me lo sarei infilato in un occhio pur di non dire quello che avrei dovuto dire e fare quello che ho fatto purtroppo meno male che non c'è il video di quella recita questa invece è la fotografia della terza media seconda media non lo so allora questa è un'altra foto un pochino più grande quando ho pubblicato Maddord con un mio amico e dietro mi ha fatto una dedica che ho voluto conservare allora poi mazz mamma mia la rocca non finiamo più questi sono in un chaku è un'arma sono di gomma perché di gomma perché le prime volte che uno tenta di fare questi movimenti se lo dà in testa e questo è matematico questi sono di Jackie Chan eccolo qua Jackie Chan Adventurous Adventurous servono per imparare il movimento e non morire perché ogni volta che si dà un chaku in testa un buco della dimensione di un pompelmo quindi questi servono apposta per i bambini io ho imparato grazie ai film di Bruce Lee mettendo pausa stop no pausa stop è la stessa cosa play pausa play pausa vedendo i movimenti ho imparato senza morire l'arte del nunciaco che inizialmente era un'arma che serviva per battere il riso cioè c'erano tipo le donne così che sbattendo il nunciaco spacco pure la pianola sbattendo il nunciaco ora lo rifaccio se no non sto contento sul riso serviva non so forse per cuocere non lo so perché serviva questa è una cartolina così di chi è? di mia sorella tanti bacioni al mio fratellino che non cambierei mai con nessuno al mondo ti voglio un casino con la k di bene Sandy questa è mia sorella non so dove stesse San Marcello Pistoiese ma sicuramente non c'è stato la cartolina avrà presa dal Bangladino oh questo qui invece è una parte delle cuffie che usavamo per suonare manca ovviamente tutto il resto io l'ho ottenuta perché queste cuffie non lo so sono state delle cuffie molto particolari cioè erano talmente tanto professionali talmente tanto belle tutte lucide nuove io non ce le avevo mai avute le aveva comprata di Mattia quel mio amico che suonava assieme a me o meglio io suonavo assieme a lui che sono rimasto estasiato poi quando le indossavo e sentivo la musica poi è tutto morbido io vorrei farvi sentire quanto è morbido ancora dopo tanti anni sono della non so se si può fare pubblicità della Technics è una grandissima marca che produce insomma tutte queste cose e il suono era così soave così bello così così coinvolgente così caldo nonostante c'erano le cuffie che pompavano musica a tutto volume quando poi le ha dovute buttare via perché non funzionavano più io ho ottenuto una parte da buon malato ho ottenuto una parte di quelle cuffie e questo è un reperto che io tengo gelosamente che però adesso tiro un attimo sul tavolo cioè io penso che questo sito durerà 70 minuti da quanta roba c'è questo è un segnalibro io mi scuso con chi me lo ha regalato ma non mi ricordo di chi è l'ho ottenuto perché è molto carino questo faraone qua sarcofago non so chi è comunque tipicamente egizio che non ho mai usato però è carino poi c'è un mouse non so per quale motivo io ho ottenuto questo mouse però ci sarà stato un motivo poi c'è il mio gameboy color chi è che non si ricorda che cos'è un gameboy l'avremo usato un po' tutti l'avrete usato anche voi questo è pokemon crystal ed era il mio giochetto preferito anche perché era l'unico che c'avevo quindi o mi piaceva o non ci giocavo purtroppo non si accende più io vorrei contattare quei canali qua su youtube che aggiustano la roba di 180 anni fa perché mi piacerebbe non so ogni tanto farmi qualche partita in nome dei bei vecchi tempi poi qui abbiamo una coccarda equi comfort questa la vinse la mia ex ragazza e me la regalò è stato un gesto che io ho apprezzato tantissimo e l'ho tenuta perché mi ricorda sia i bei vecchi tempi e sia perché mi piacciono i colori insomma l'ho sempre tenuta da parte e al sicuro poi qui abbiamo un polsino con i segni con il simbolo di yin e yang questa parte bianca la parte nera io lo indossavo sempre da ragazzi da bambino quanti anni c'avevo forse dieci perché mi sentivo un combattente di quelli vabbè cinematografici di quelli un po' così questo qui voi direte ma che cazzo è un pezzo di plastica appuntito sembra quello che usano con il silicone per fare le cose in precisione in realtà non serve cioè non è partito con questa utilità perché ho conservato sta cosa allora questo oggetto non so se lo vedete bene per me rappresenta quei momenti che non sono ancora passati perché ancora lavoro al porto in cui faticavo più di tutto in assoluto cioè quando tenevo in mano sto coso era la fine cioè il turno più faticoso del mondo uno si immagina la pala si immagina non so delle funi dove deve tra i nakis i massi no è questo pezzo di plastica perché in pochissime parole noi dovevamo con questo bucare come faccio a spiegarvelo bucare una patina simile alla plastica protettiva che si applicava alle ruote cioè che si applicava ai cerchioni delle ruote delle macchine nuove ok non so cosa ho detto speriamo che abbiate capito quindi bucavamo questa patina questa pellicola no patina questa pellicola due volte quindi non so uno e due e poi ci dovevamo far passare attraverso questi due buchi un laccio che si chiama rizza che poi andava sia sulla ruota della macchina sui raggi incastrata legata e sia sul pavimento della nave cioè insomma una rosetta si chiama all'interno della quale ci va il gancio insomma per rizzare la ruota della macchina non so se avete capito forse vi metto una foto in sovraimpressione così da capire un po' meglio ebbene questo io l'ho ottenuto porca l'ho ottenuto perché dico un giorno io non farò più questo lavoro non faticherò mai più così tanto scriverò e questo lo ricordo cioè lo voglio ricordare come un oggetto antico che usavo nel mio vecchio lavoro l'ho conservato sei anni fa e faccio ancora lo stesso lavoro perché non sono diventato uno scrittore famoso proprio parlando di scrittura eccolo qui il mio libro e voi direte questo è il primo libro che hai tenuto in mano ma no questo è un errore di stampa vedete so se si vede ma questo è l'unico libro che presenta errori di stampa assoluti cioè non solo non solo è a metà la pagina ma è anche capovolto l'ho ottenuto così dico se un giorno mai morirò perché non è sicuro che io morirò questo libro potrebbe valere di più poi passiamo a questa vabbè è una lettera che mi ha scritto mio zio forse ho preso da lui in qualche maniera la passione della scrittura perché dovete sapere che io e mio zio poi mi fa ridere che io racconti questa cosa perché non so se vi interessa però lo faccio lo stesso io e mio zio abbiamo sempre avuto un bel rapporto soprattutto quando io ero piccolo perché più o meno all'elementare stavo sì all'elementare ci mettavamo a mangiare nel suo giardino con le cose fatte alla braccia così chiacchieravamo chiacchieravamo proprio di discorsi molto importanti e questa cosa lo ha sempre colpito perché nonostante la mia giovane età insomma riuscivo in qualche maniera a fare quasi qualsiasi discorso allora qui abbiamo invece una penna che non si apre più cioè un astuccio che non si apre più sicuramente è tipo calcificato o no è semplicemente al contrario ecco questa è una penna una penna che mi regalò mio padre ora la penna non si apre più benissimo spero che mio padre non guardi questo video però è una bellissima penna io ho apprezzato talmente tanto il suo regalo che l'ho voluta conservare bellissima così con questi colori che non è una stilografica attenzione non è la solita con la punta 500 euro anche perché insomma questo invece è stato un regalo apprezzatissimo e io la conservo gelosamente anche se non la uso a me far ridere che io continuo a mettere roba di qua poi dopo ci metterò sei anni a sistemare tutto signori e signori il compasso che bello oggetto questo l'ho ottenuto perché tutto scocciato tutto proprio rovinato perché questo in qualche maniera mi ricorda tutte le volte che facevamo disegno che facevamo ma io dico ma perché dovevamo mettere questa e non so neanche se lo usano più i bambini i ragazzi a scuola sto oggetto misterioso a parte che costava un botto proprio tanto e comunque con questa puntina non è che dovevo spiegare come funziona il compasso giravi e il cerchio perfetto ma non so c'è stato sempre un amore un odio verso questo strumento perché era bello toccarlo con questo materiale bello pesante bello ma non è mai riuscito a fare un cerchio cristiano sempre cerchi un po' strabici pure col compasso non sono stato capace a disegnare nulla allora questi sono degli occhiali ovviamente distrutti della Ray-Ban questi occhiali io li indoro oh mamma mia questo ha puntito vedete non c'è più il cappuccetto di plastica questi io li indossavo quando volevo fare il figo questi più o meno avevo 14 anni e rimediavo un sacco di ragazze 14-15 anni quindi io devo a questo oggetto che poi in realtà erano di mia sorella però poi li ho presi io devo tante esperienze insomma di vita poi qui abbiamo un profumo mi sembra che sto facendo le televende è una cittazione un profumo vuoto di 12 anni fa a soli 1600 euro questo è di mio padre voi non ci crederete se un giorno inventeranno un sistema io lo adotterò per farvi sentire il profumo ma ancora ha il profumo di tanto tempo fa annusarlo mi ricorda dei bei vecchi tempi ormai andati chissà dove e non lo so mi ricordano mio padre non perché sia morto eh papà no no anzi domani è anche il compleanno su questo è un bracciale con su scritto joy io non ricordo chi me lo regalò o la mia ex ragazza o non lo mi ricordo però è stato sempre un braccialetto carino non l'ho mai messo però carino l'ho ottenuto poi passiamo a dei guantoni un paio di guantoni magari questo no questi appartenevano ma i suoi miei me li ha regalati penso anche perché si è scordato ma tanto i miei video non li guarda del mio maestro di Winchu non so se ci ha vinto una gara importante o se li utilizzava per i suoi allenamenti comunque me li regalò è un suo oggetto privato personale che io tengo con molta cura questi invece sono i guantini che usavo con questo giustamente uno fa tutto il corredo così facciamo una bella bacheca con tutta la roba che porto dentro poi signore e signori un telefonino degli anni 30 perché non può essere più recente vedete ancora con lo sportelletto ovviamente non funziona e contatterei lo stesso tizio di prima del youtube che aggiustano tutto sarebbe molto bello fare così mi manca un sacco eh un giorno chissà chissà allora qui abbiamo la scritta con il mio nome l'ho tenuta perché per tantissimi anni è stata in bella mostra su mobile mi sembra dalla mia cameretta ma è stato bello vedere come l'hanno realizzata c'era una specie di seghetto e la tizia a mano insomma spostava quello che era un blocchetto di legno fino a poi realizzare la scritta con il mio nome poi passiamo avanti a una macchinetta fotografica kodak che tra l'altro credo sia fallita ormai qua c'era tutto lo spazietto per la come si chiama la memory card questa me la ricordo benissimo a parigi ho scattato una media di 3 o 400 foto al giorno con questa faceva un flash che te levava 3-4 gradi però è una macchinetta a cui sono legato poi qua c'è un souvenir di braga questo me l'aveva regalato un mio caro amico allora poi ci sono i diari giustamente quale scatola di ricordi può essere definita tale senza i diari giustamente distrutti scritte ovviamente molto innamorato della vita io tantissimo non so di preciso di che anni stiamo parlando ma qui c'è addirittura l'orario provvisorio e l'orario definitivo incredibile matematica storia meglio non guardare insomma i diari si devono sempre tenere poi qua che cosa c'è questo qui è il tacuino ad anelli dove io qua sulla copertina rigida ho scritto se avessi un nemico gli regalerei la mia vita e questo continua a testimoniare la mia felicità di vivere che avevo qualche anno fa questo però anche se rappresenta tutta la mia negatività questo è all'asta assieme a quell'altro quaderno rappresenta anche un po' l'inizio del percorso da scrittore da essere umano che si sfoga con la scrittura qua c'è invece una prova che avevo fatto per le regole del paradiso ci avevo messo il mio profilo poi guardandolo dico no meglio di no perché questo è un egocentrismo gratuito che evitiamo il paio di occhiali il paio di occhiali che io indossavo boh questo sarà qualche dieci anni fa bene no avevo scelto questa montatura molto sembrano due bare in realtà e invece ad oggi ho quest'altro tipo di occhiali che avrete visto sicuramente un po' più tondeggiante questa forma diversa ma chi se ne frega degli occhiali passiamo poi a una sciarpa una sciarpa appartenente alla mia ex ragazza che me la regalò oppure se l'era scordata non mi ricordo e io tornando a casa insomma con questa sciarpa l'ho annusata e ho sentito il suo profumo che adoravo in una maniera indescrivibile il profumo di Chanel numero 5 e quindi l'annusavo come un forsennato e mi sono addormentato con questo profumo inebriato il giorno dopo non gliel'ho data la sciarpa ma me la sono tenuta ho ridormito con questa sciarpa fino a che avevo finito praticamente tutto il profumo e alla fine l'ho tenuta però ovviamente non profuma più poi c'è il mio astuccio mazza quanto pesa questo è il mio astuccio è stato il mio astuccio per tantissimo tempo ma veramente tanto io adesso sono curiosissimo di vedere che c***o c'è dentro allora nella prima sezione c'è una penna di berlino un'altra penna questa me la regalò questa è una Parker no boh si no boh si questa me la regalò la mia migliore amica poi c'è una targhetta scritta New York Joy la comprai tanto tempo fa quando sono andato a New York e poi c'è un telefono un telefono tra l'altro bruttissimo di mia sorella un Nokia Express Music non lo so comunque un telefono proprio antico questo c'è 146 anni poi ci sono delle monete attenzione signore e signori delle monete che non valgono niente no c'è un pound due pound insomma di monete che appartengono a una vacanza fatta nel 2014 a Londra poi nella seconda invece taschina oh vediamo che ci sono due stelle ninja così magari a scuola volevo uccidere qualcuno poi c'è il laccetto questo laccetto ecco questo lo mettiamo insieme ai guantini e cosa per bugare protezione dei cerchioni questo era il laccetto che indossavo con tanto di cartellino nominativo identificativo quando mi chiamavano al lavoro all'ultimo diciamo senti puoi venire qua alle ore questa banchina era proprio un periodo da interinale quindi ti chiamavano quando servivano c'erano dei picchi di lavoro e tu dove stavi stavi dovevi andare lì ovviamente se stavi a Verona no però se potevi era meglio andarci questi sono dei soldi del Messico io non sono stato mai in Messico quindi mi chiedo come faccia ad averli ah questo perché ho trovato un portafoglio giuro senza documenti all'aeroporto di New York e ho preso dico ormai ce sto li prendo e poi altre monete ma voi non so di quali paesi ci sono anche delle lire dopo controllerò perché ho letto che ce ne sono alcune che valgono un sacco di soldi proseguiamo vi prego perché sennò non finiamo più un paio di manette io adoravo le manette adoravo arrestare ed essere arrestato così e poi perché avevo scoperto un modo per liberarmi che adesso proverò io mi ammanetterò e sicuramente ma questo è sicuro come il pane io non ricorderò più come si esce queste sono manette vere sentite che è ferro non è che so quindi senza chiavetta avevo scoperto questo modo qua c'è una levetta che si è alzata con qualcosa di appuntito e c'è la magia io adesso rido fino a domani se non mi apre più la manetta e devo chiamare i pompieri ma sarebbe bello meriterei questa cosa qui la merito io so sicuro che tanto non ci riesco più ma quanto rido se si è rotto il meccanismo se magari si è rotto un pezzetto dentro oh eccolo 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 qua ecco la magia è stata solo fortuna poi un altro diario beh fuck it qui ovviamente la mia voglia di vivere continuava così questo è un diario bellissimo mamma mia quanto tempo è passato quanto tempo è passato ci sono tutte le scritte le cose giustifico mio figlio per l'assenza del giorno 19.09.08 per motivi di salute però classica cosa che non è stata mai vera non sono mai stato male poi c'è un'agendina di Lautrec questo pittore che a me piaceva tanto però l'agenda non l'ho mai usata ancora non era il tempo dell'agenda questo invece è il laccio dell'Olympus e di mio padre io mi ricordo tantissimo mio padre che indossava questo laccio con la macchinetta fotografica annessa e ci scattava le fotografie quelle bellissime che vi ho fatto vedere prima dove sembro un mostro c'è un ciuccio questo ciuccio è allora questo ciuccio andiamo tranquilli questo l'ho comprato con la mia non ex ragazza ma ex ex ragazza noi andavamo in giro con questo ciuccio in bocca e morivamo da ridere perché le persone ovviamente guardandoci facevano delle espressioni talmente tanto tra il disgusto lo schifo e la pena che noi ci ammazzavamo da ridere questo era il mio ciuccio che adesso se lo metto in bocca altro che covid moro proprio all'istante questa è una calcolatrice come potete ben vedere dei simpson mi è sempre piaciuta perché questo meccanismo non so se si vedrà bene in camera cioè è la cosa più bella del mondo io questa la usavo a scuola ma non per fare calcoli per fare sto giochetto qui e questo è ciò che facevo a scuola bene proseguiamo la carrellata sta quasi per fine la scatola questo è un altro diario ma stavolta non ci sono tutte le mie paranoie e la mia voglia di morire ma il diario dei miei progressi dove la parola impossibile non si conosce e avevo ritagliato dalle riviste di fitness un tempo le leggevo tutte le cose magari un panino ecco per l'energia uno per l'antietà insomma avevo qui 12 anni e quindi era molto carino vedere ecco tutte le cose che facevano bene non so alla pelle alla vista al cuore ma è durato 10 pagine dopo ovviamente le pagine sono tutte bianche infatti penso che lo butterò questo è il quaderno del winch dove ho appuntato tutte le idee tutti i programmi che facevo tutte le tecniche le regole del paradiso questa non è la prima copia ma è la copia sulla quale abbiamo fatto le correzioni più importanti queste sono le ecco gli appunti le evidenziature del mio editore Parigi un portachiave quando sono stato a Parigi un altro cimelio della mia ex ragazza che poi è bruttissimo chiamarla ex ragazza ma per privacy non voglio dire il suo nome ma è brutto 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 dire ex ragazza non era l'unico gioco che avevo pokemon crystal c'era anche super mario pensa quanto me lo ricordavo ma poi la cosa stupenda era che si poteva fare di questo e per me sta cosa è tipo una magia anche ad oggi adeggi stavo dicendo e tutta sta tecnologia le app tutto nel cervello ce abbiamo in realtà quelle erano le cose più belle un'agenda del 2016 in questa agenda noterò ogni progresso fatto in palestra e l'agenda è vuota un portafoglio ah eccolo qua questo è il portafoglio che ho trovato a New York la prima volta che ci sono andato con i soldi del Messico dentro e non ci sono i documenti io ve lo giuro non c'erano i documenti ho cercato poi dovevamo imbarcarci ho trovato questo ma non valgono niente saranno tipo 10 euro questa invece è l'agenda sulla quale o nella quale ho scritto tutti gli appunti del primo romanzo annotavo facevo poi ne ho comprato un'altra per il secondo e penso che ormai andrà avanti così questi sono i diplomi del mio percorso marziale questo è il primo grado il primo in assoluto l'ho preso il 20 dicembre 2002 ho preso la prima cintura quella gialla poi c'è quella gialla arancione poi quella arancione insomma le ho presi tutti fino al grado uno dei più alti che è il secondo grado tecnico dove sta ah no perché ce l'ho appeso questo è l'undicesimo no quelli che i tecnici ce li ho appesi a casa dei miei questi sono soltanto quelli delle cinture poi vediamo che cosa c'è qui qui c'è un album di ricordi della mia ex ragazza in realtà non era l'unico oggetto che mi aveva fatto lei molto molto carino con delle scritte molto molto bello poi c'è un'altra busta questa è di Gardaland non so cosa c'è all'interno ci sono un po' di ah queste ci sono delle delle cartoline che non ho mai consegnato le ho scritte comprate non ho mai date ai destinatari vabbè un giorno magari lo farò questo è il fuso orario ci sono i biglietti per andare dove boh a Milano ah sì Milano quando ho fatto dei viaggi per il romanzo per andare insomma dall'editore questo è Homer questo l'abbiamo capito però dentro ci sono una marea di cose c'è un quaderno il quaderno rosso questo proprio dentro altro che voi e poi ci sono un miliardo e mezzo di fogli matematica geografia scacchi non si sa quanta roba c'è qui dovrò fare una pulizia che non finisce più io ho finito lo spazio fermo lì non so più dove mettere la roba questo lo buttiamo per terra tanto non resiste oh finalmente questi due oggetti io li adoro sono due mp3 questo dell'anteguerra e questo un pochino più tecnologico ma molto molto vecchi questo addirittura questo bellissimo usb caricavi le canzoni cuffia era solo mp3 quindi cambiavi le canzoni la sentivi la pila qua dietro ma dove le vediamo più queste cose qua dove dove questo non funziona è sempre il tizio di youtube mi servirebbe di contattare per reanimarlo ma un miracolo tra realtà e fantasie con qualche errore di ortografia testi elaborati della quinta A e quinta C 2002-2003 stavo alle elementari e io ho scrissi il mio primo racconto a tutti gli effetti prima di qualsiasi altro libro romanzo o di qualsiasi altro quaderno depresso della vita eccolo qua joy questo l'ho scritto io è stato una specie di thriller un detective che va a capire insomma chi è l'assassino la provincia un giornale che notizia è uscita qui e quando ho pubblicato il libro boh non lo so vabbè poi controlliamo una fotografia di Bruce Lee questa anche era appesa ovunque un altro un'altra gigantografia di Bruce che non apro insomma abbiamo capito poi una foto con mia madre che sembra che sono morto cioè i miei genitori sono ovunque però insomma sono ancora vivi per l'amor di Dio Meddor il film esatto si Meddor avrebbe dovuto essere un film ma poi il regista è sparito ciao Eitan ti ricordi di me? questo sono io da piccolo con mio zio questo sono io nudo sotto la doccia quando avevo tipo due anni e poi signore e signore abbiamo quasi finito qua io e mio cugino che stavamo a Gardaland Milabilandia non mi ricordo questo un biglietto di auguri sì sicuramente di auguri altri bigliettini vari un pennello non si sa per quale motivo un pennello con dei colori queste sono cose che penso io abbia buttato così un'altra fotografia di Bruce Lee altri fogli fogliettini fogliettini fino ad arrivare poi a niente praticamente che c'è un altro oggetto importantissimo per la storia della mia vita è questa frase per essere uno dei migliori devi lavorare 20 ore al giorno per essere uno dei migliori devi lavorare 20 ore al giorno proprio sempre per la rubrica stai tranquillo che vivi bene l'avevo appesa così davanti ai miei occhi accanto al computer così da leggerla tutti i giorni e sentirmi una merda come non mai era una frase che è stata detta in un documentario per hacker e aveva acceso la prima delle 1500 micce nel cervello che insomma ragionamento dopo ragionamento mi ha fatto arrivare a delle conclusioni che poi ho smontato poi ho ripreso poi ho metabolizzato poi ho cambiato fino poi a non capirci più un c***o signori e signori io spero che questa carrellata di ricordi vi abbia fatto piacere questa è parte della mia vita ovviamente non si può racchiudere più di due decenni di vita in una scatola però insomma bene o male vi ho fatto vedere una parte di quella che è stata la mia infanzia la mia adolescenza e qualche anno fa perché alcuni oggetti sono abbastanza recenti mi sono aperto a voi vi ho mostrato un po' della mia vita privata spero che vi sia piaciuta e quindi fatemi sapere se vi interessano altre cose che non riguardano specificatamente libri io vi voglio bene vi aspetto nei commenti per qualsiasi domanda ci vediamo alla prossima recensione o al prossimo video ciao